Ok, allora, Maltese, Grifoni di Bruxelles, Brabantino, Papillon, Bulldog francese, Chihuahua pelo corto, Cavalier, Chihuahua pelo lungo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, Maltese, no, iniziamo da qui, ok, Bulldog francese, signori, se andate più su state tutti all'ombra. Ecco qua il Bulldog francese. Chihuahua pelo lungo. Papillon. Papillon. Ed il Maltese. Il gruppo 10 nel pre-ring per cortesia. Allora, ci siamo al terzo posto. Il Chihuahua pelo lungo. Terzo posto. Al secondo posto il Papillon vince Maltese. Un'altra posto. Un'altra posto. 1, 2, 3, 3, 4, 4, 3, 5, 100, 1 만들c. Grazie a tutti.